questa pausa invece la prossima che vedrà le nazionali e la juventus coinvolta sarà probabilmente uno dei periodi più caldi se non il periodo più caldo dell'anno per la juventus perché ci sono molte molte situazioni da analizzare perché proprio in questo periodo ci saranno delle novità molto importanti per quanto riguarda non il processo ma i processi che vede la juventus coinvolta quindi scopriamo tutto nel dettaglio perché c'è molto a molto di cui parlare perché il procuratore federale chi ne ha sapete chiesto altri 20 giorni per il secondo fascicolo relativo alla manovra stipendi e quindi ci sono novità importanti scopriamole oggi qui su fcm sport a proposito vi ricordo che qui sarete costantemente aggiornati sulle vicende della juventus e quindi vi invito come sempre ad iscrivervi perché se volete essere aggiornati qui troverete tutto quello che vi serve inoltre vi ricordo come sempre che qui sotto la sezione dei commenti è dedicata proprio a questo cioè a creare dibattiti sulla vicenda vogliamo sapere cosa ne pensate qui sotto diteci la vostra anche perché molto spesso prendiamo i commenti quelli più interessanti quelli più approfonditi quelli le analisi più interessanti e prendiamo spunto proprio per creare nuovi contenuti dove prendiamo questi commenti li mettiamo e a schermo quindi se vi va diteci la vostra qui sotto e allora chi ne ha chiesto alla procura generale dello sport un'ulteriore proroga l'abbiamo detto altri 20 giorni per l'inchiesta scadevano i termini praticamente in questi giorni ed invece tutto salta perché perché ci sono tante altre pagine da esaminare non è la prima volta e chi ne allunga i tempi per questo per per la chiusura dell'indagine già a gennaio l'ho fatto va chiesto altri 40 giorni per la posizione di tutte le altre squadre tra cui atalanta bologna e così via e quindi adesso è costretto a chiedere altro tempo perché ha una valanga da quello che si dice addirittura oltre mil più di mille pagine che sono arrivate alla dalla proprio direttamente dall'inchiesta prisma e sono finite proprio sulla sua scrivania per situazioni legate a alle vicende degli stipendi alle dichiarazioni di di bala la situazione legata a mandragora insomma una serie di situazioni che possono complicare tutto e di fatto queste indagini considerando anche i tempi e considerando questa ulteriore proroga finirà praticamente a fine marzo a fine marzo sapete cosa c'è lunedì 27 infatti c'è al tribunale di torino ci sarà l'udienza preliminare dell'inchiesta prisma quindi ci spostiamo nell'ambito ordinario molto spesso si fa confusione devo dire perché molto spesso parlando e anche ascoltando devo dire alcuni contenuti sul web piuttosto che articoli beh si tende a fare un po di confusione si tende a considerare forse l'inchiesta prisma come una inchiesta che ha a che fare col processo sportivo beh gli atti derivanti dal processo dall'inchiesta prisma arrivano direttamente al processo sportivo ma sono due processi diversi ebbene è importante sottolinearlo quindi di fatto si profila per la juventus un periodo caldissimo fondamentalmente perché la squadra avrà la possibilità di recuperare qualche infortunio magari qualche giocatore che non andrà in nazionale la capacità di ricaricare un po le batterie ma dall'altro lato ci sarà ci sarà anche un periodo importante intanto la juventus come sapete ha avuto la prima diciamo chiamiamo la prima vittoria perché il tar ha obbligato il coviso che la procura federale ha all'accesso di quegli atti di quel famoso atto quel documento chiarimenti interpretativi sulla vicenda delle plusvalenze che era rimasto in qualche modo nascosto non c'era la possibilità di accedere a questo documento beh ecco il tar non è stato di questo di questo aspetto e quindi di fatto il primo atto dell'udienza preliminare torniamo invece alla vicenda prisma che sarà ripetiamo la porte chiuse vede tra gli imputati chi l'ex presidente andrea agnelli gli ex dirigenti nedved paratici arriva bene è il club stesso che sarà che sarà anche da questo punto di vista protagonista ed è chiaro che questo è un periodo caldissimo fondamentalmente perché da questo tipo di processo quello ordinario beh può dipendere secondo me il fondamentalmente il futuro di questa di questa juventus una juventus che diciamoci la verità non vive un periodo facilissimo vive un periodo di non di crisi però di non è facile portare avanti tutta questa vicenda in maniera molto tranquilla molto spesso parliamo di campo parliamo del gioco parliamo di come la juventus si deve approcciare ed è chiaro che da questo punto di vista allegri deve essere bravo a mantenere la calma e a staccare i due i due contesti dall'altro lato però c'è da dire che non è facile vivere in un clima del genere perché tutto questo comporta indecisioni e difficoltà di vedere il futuro guardate per esempio il campionato attuale il campionato attuale è un campionato che ad oggi risulta palesemente condizionato da questa vicenda qui c'è il famoso meno 15 che può essere tolto e a quel punto condiziona non soltanto la juve stessa ma anche le altre squadre che non sanno se saranno domani ancora seconde o terze ma non in virtù di alcuni risultati sul campo ma per una decisione ok prima in un modo o nell'altro e può cambiare di volta in volta quindi è chiaro che questa situazione condiziona ma condiziona secondo me anche il futuro della società e dei giocatori perché immaginate i giocatori che attualmente sono la juventus soprattutto i grandi nomi mi viene in mente gente come a sottostare pogba mi viene in mente gente come di maria come vlauic come chiesa come lo stesso bremer che è arrivato quest'anno e ha firmato un contratto importante per una società che lo voleva ma dall'altro lato sono professionisti potrebbero anche decidere di abbandonare perché molto spesso il tifoso parla a tifose quindi dice devono rimanere tutti perché la juventus è la più grande squadra del mondo ma loro da professionisti che magari l'anno scorso vestivano altre maglie potrebbero decidere di cambiare quindi potrebbero decidere di voltare pagina vediamo prendiamo ad esempio vlauic che non si sta trovando bene a torino con allegri non è scoccata la scintilla e non sta segnando a raffica come succedeva la fiorentina in più ci metti questa relazione con un grosso punto interrogativo è chiaro che questo condiziona ma se per caso la juventus dovesse uscirne bene da tutta questa vicenda beh qua i danni d'immagine sono importanti perché poniamo il caso che la juventus viene assolta ma tutto ciò arriva dopo o meglio arriva quando in conseguenza di decisioni importanti prendiamo ad esempio rabbiò rabbiò è possibile che già in questi giorni possa firmare con una società perché per lui la champions league è troppo importante lo ha detto lui stesso ecco e poi se la juventus invece si qualifica lo stesso perché i punti vengono ridati o perché si capisce che era tutto una montatura per allontanare la juventus dalla champions ma in realtà la juventus in champions ci andrà e per ora il frattempo hai perso rabbiò che è un giocatore importante per la tua rosa c'è come vedete ci sono tante situazioni che comunque stanno danneggiando la società bianconera a prescindere il danno d'immagine è abbastanza evidente può esserci anche un danno da un punto di vista della rosa perché possono lasciare giocatori importanti ad esempio in questi giorni sta parlando di kenyan hildiz giocatore che potrebbe addirittura decidere di andare via perché questa situazione non lo convince ed è un gioiello per il futuro il di maria può decidere di andare via così come kenyan hildiz il 35enne e il 18enne come vedete c'è il presente e il futuro della juventus che è in bidico perché perché si stanno prendendo delle decisioni che a volte sono troppo frettolose e lo abbiamo visto la rapidità e deve essere la priorità in questi tipi di processi sportivi ma come vediamo molto spesso non ha nulla a che vedere con la certezza assoluta e soprattutto l'incertezza nella nelle decisioni tutto ciò è preoccupante per questo io vi chiedo cosa ne pensate cioè sono voi alla fine come andrà a finire e quanto tutto ciò influirà sul futuro della juventus cioè a che tinte sarà sarà più bianco più nero il futuro della juventus parliamone apriamo un bel dibattito qui sotto nei commenti